Ciao a tutti e bentornati finalmente dopo la pausa estiva. Benvenuti di nuovo sul mio canale e vi presento oggi la mia serie divulgativa di meccanica quantistica, di cui questa di oggi è la puntata numero 1. In tutto saranno 5 appuntamenti che verranno pubblicati circa una volta a settimana. All'interno di questa mia serie vorrei adottare un approccio un po' diverso, forse rispetto a quello che solitamente viene adottato all'interno della divulgazione. In effetti, all'interno della divulgazione classica della meccanica quantistica, diciamo quella un po' più mainstream, spesso si pone l'accento sull'aspetto filosofico della teoria stessa, cioè sulle conseguenze che riguardano un po' massimi sistemi, sconvolgimenti dei nostri modi profondi di vedere la realtà. All'interno di questa mia serie, invece, vorrei mantenere il livello di speculazione filosofica un po' più basso. Naturalmente non mancheranno discussioni, soprattutto verso le puntate finali, per quanto riguarda alcuni aspetti filosofici della teoria legati strettamente al concetto di interpretazione della meccanica quantistica. Tuttavia, quello che vorrei far passare è un modo di vedere la teoria della meccanica quantistica molto più vicino, invece, alla visione che hanno le persone che ci lavorano, cioè agli scienziati e ai ricercatori che ogni giorno hanno a che fare con il mondo quantistico. Quindi noi seguiremo più o meno il seguente schema. Nella puntata di oggi vorrei gettare un po' le basi per quanto riguarda alcune nozioni fondamentali della teoria. In un certo senso vorrei far acquisire a chi mi guarda un modo, una chiave di lettura della realtà. Chiave di lettura che poi servirà per le prossime altre quattro puntate per capire meglio i discorsi che verranno fatti, perché noi prenderemo la teoria della meccanica quantistica, che, come vedrete, è un insieme, un grossissimo insieme di strumenti matematici e fisici che ci servono per interpretare moltissimi fenomeni. E utilizzeremo poi queste nozioni all'interno delle prossime puntate per capire come tante altre branche della fisica nascono in modo del tutto naturale su queste basi quantistiche. Oggi parleremo quindi di alcuni concetti e di alcuni fenomeni fondamentali che ci hanno fatto capire che effettivamente esiste un mondo, cioè quello quantistico, che in qualche modo sta sotto, sta dietro le quinte rispetto al mondo in cui noi viviamo. La nostra quotidianità si basa sulle leggi della meccanica classica, che quindi sono lontane da questo mondo quantistico, però non così lontane come potrebbe apparire. Di fatto noi possiamo tranquillamente trascorrere le nostre giornate ignorando completamente le leggi della meccanica quantistica. Questo semplicemente perché i fenomeni con cui abbiamo a che fare rientrano nell'ambito della meccanica classica di Newton. Che cos'è la meccanica quantistica? Che ne so io! Quindi di fatto noi possiamo vivere tutta la nostra vita senza sapere nemmeno che cosa sia la meccanica quantistica. Questo però è vero solo fino a un certo punto. Ci sono in effetti tantissimi fenomeni con cui abbiamo a che fare in modo più o meno diretto che si spiegano proprio grazie a questa teoria. Ad esempio, grazie alla meccanica quantistica spieghiamo la struttura degli atomi, la struttura delle molecole, ad esempio spieghiamo anche i legami chimici, il comportamento degli elettroni nei metalli e tante altre cose. Ma anche gran parte della tecnologia stessa con cui abbiamo a che fare si spiega grazie alle leggi della meccanica quantistica. Ad esempio i semiconduttori su cui si basa il funzionamento di uno smartphone. Anche il funzionamento del laser si basa proprio sulla meccanica quantistica e proprio dal laser, e più in generale dalla luce, inizieremo il nostro lungo percorso. Fin dall'antichità gli esseri umani hanno avanzato ipotesi diverse su quale fosse la vera natura della luce. Ad esempio c'è chi ha supposto che la luce fosse costituita da un flusso di tante particelle, oppure c'è chi ha supposto che la luce fosse un'onda, eccetera eccetera. Tuttavia noi oggi, prima di supporre cose, vediamo i dati sperimentali. In effetti la fisica è una scienza sperimentale. E quale è il miglior modo di introdurre una nuova teoria fisica se non guardando l'esperimento? In particolare questo è l'esperimento di Yang, della doppia fenditura. In che cosa consiste? Abbiamo all'inizio un laser che passa attraverso due fenditure, cioè due piccoli fori allungati, posti vicini tra di loro. Il laser passa appunto attraverso questa doppia fenditura e successivamente si crea una figura qui sul nostro schermo. Come possiamo vedere la figura è una figura di interferenza, che è tipica dei fenomeni ondulatori. Quindi per prima cosa da questa esperienza noi deduciamo che la luce ha una natura ondulatoria, cioè si comporta sicuramente anche come un'onda. Bene, adesso che abbiamo messo un po' di carne al fuoco, fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire che cosa possiamo dedurre da quanto detto finora. Innanzitutto specifichiamo che l'esperimento di Yang risale in realtà al 1801, quindi a tempi non sospetti per quanto riguarda la meccanica quantistica. In effetti all'inizio del XIX secolo nessuno sapeva minimamente che cosa fosse la meccanica quantistica, né che cosa fossero i cosiddetti quanti. Quindi tutto quello che fino adesso possiamo dedurre dall'esperimento di Yang è che effettivamente la luce presenta una natura ondulatoria, quindi si comporta come un'onda. E questo si può proprio dimostrare matematicamente, nel senso che trattando la luce matematicamente come un'onda, quindi proprio scrivendo un'equazione d'onda, come si dice in gergo, si ricava proprio tutta la figura di interferenza che compariva sullo schermo. Quindi si ricava esattamente, dal punto di vista quantitativo, in quali zone dovrebbero e non dovrebbero comparire quelle piccole righe che comparivano sullo schermo. Ci sono però adesso due fatti molto molto importanti. Innanzitutto, all'inizio del XX secolo, circa tra il 1900 e il 1905, Max Planck e Albert Einstein hanno capito che effettivamente la luce si può descrivere come un flusso di piccoli pacchettini di energia. Detto così può sembrare una cosa effettivamente molto strana. Ma di fatto ci sono dei fenomeni fisici che si spiegano solo in questo modo, cioè supponendo che l'energia dell'onda elettromagnetica, quindi dell'onda luminosa, arrivi sotto forma di piccoli pacchettini, pacchettini che successivamente verranno chiamati fotoni. Quindi effettivamente noi possiamo rielaborare l'esperienza di Young e ottenerne una versione in cui invece che immaginarci che passi semplicemente un'onda luminosa attraverso le due fenditure per poi andare a incontrare lo schermo che sta dietro. Ci siano invece tanti piccoli pacchettini di energia, quindi delle vere e proprie particelle che sono appunto i fotoni che, esattamente come la luce, passano in qualche modo tra queste due fenditure e arrivano sullo schermo. Di fatto si può proprio sperimentalmente ridurre così tanto la frequenza di questi pacchettini, naturalmente in modo del tutto analogo viene ridotta l'intensità luminosa, in modo che statisticamente arrivi circa un pacchettino, ad esempio ogni secondo. E questa cosa si traduce in modo sorprendente osservando che ogni secondo compare proprio un piccolo puntino sullo schermo che sta dietro, cioè se noi riusciamo ad abbassare abbastanza questa intensità luminosa che passa attraverso le due fenditure, noi osserveremo proprio dei puntini comparire sullo schermo. E la cosa assolutamente incredibile è che questi puntini inizialmente, cioè se noi ne lanciamo uno alla volta, li vediamo comparire semplicemente in modo del tutto casuale, distribuiti in modo casuale sullo schermo che sta dietro le due fenditure. Ma se noi attendiamo abbastanza tempo, quindi attendiamo che un grandissimo numero di fotoni sia passato attraverso le due fenditure, noi riusciremo a ritrovare la figura di interferenza, quella che osservavamo all'inizio, quando semplicemente lanciavamo un'onda elettromagnetica in cui miliardi e miliardi di fotoni arrivavano contemporaneamente o quasi. Da tutto ciò deduciamo che effettivamente il fenomeno non è così semplice da interpretare, perché se io lancio un fotone alla volta, osservo una distribuzione del tutto casuale sullo schermo. Ma se io aspetto abbastanza tempo sempre lanciando un fotone alla volta, dopo un po' osserverò di nuovo la figura di interferenza. Una prima cosa che potrei immaginarmi è che in qualche modo i fotoni interferiscano tra di loro. Quindi io lanciando due fotoni questi interferiranno in qualche modo tra di loro e quindi formeranno questa figura di interferenza sullo schermo. Tuttavia in realtà io posso addirittura, come abbiamo appena detto, osservare la figura di interferenza lanciando un fotone alla volta. Quindi è il fotone stesso che interferisce con se stesso. E questa è una cosa stranissima. Cioè il fotone stesso sembra comportarsi come onda nel momento in cui passa attraverso le due fenditure, perché effettivamente sta interferendo con se stesso in qualche modo, come un'onda. Tuttavia, quando arriva poi sullo schermo, io lo vedo come un puntino. Quindi esattamente come farebbe una particella. Comunque per adesso, finché si parla di fotoni, ci si potrebbe immaginare che sia tutta una costruzione mentale, no? Perché effettivamente chi me lo dice che veramente posso immaginarmi queste particelle? Cioè solo perché posso vedere l'onda come è fatta da pacchettini di energia, uno potrebbe dire, beh, non è detto che però effettivamente questi pacchettini siano delle vere e proprie particelle. Quindi in realtà andiamo avanti e vediamo qual è la seconda cosa sorprendente. Un altro fenomeno sorprendente è che si osserva che anche usando delle particelle dotate di massa, quindi delle vere e proprie particelle, quelle che nel senso comune del termine noi ci immaginiamo come particelle, come ad esempio degli elettroni, si osserva la stessa figura di interferenza. Quindi se io rifaccio lo stesso esperimento della doppia fenditura lanciando un elettrone alla volta, e vi ricordo che un elettrone è una particella dotata di massa, quindi a tutti gli effetti la si può immaginare come una piccola pallina con una certa massa, ecco, anche ripetendo l'esperimento con degli elettroni, quindi con delle piccolissime palline, noi osserviamo questa figura di interferenza. Quindi gli elettroni stessi hanno questo comportamento ondulatorio. Quindi da quanto detto dobbiamo per forza ammettere che effettivamente le particelle, che siano particelle nel senso classico del termine, come gli elettroni, o che siano questi nuovi pacchettini di energia un po' misteriosi come i fotoni, presentano un comportamento molto molto strano e difficile da descrivere. Da un lato abbiamo un comportamento che non si può completamente descrivere come comportamento ondulatorio, come appunto l'impatto di queste singole particelle sullo schermo. D'altro canto però non possiamo in nessun modo dire che il comportamento è interamente corpuscolare, quindi interamente quello di una pallina, perché in questo modo non spiegheremo in nessun modo il fenomeno dell'interferenza. Quindi abbiamo questa doppia natura molto difficile da descrivere. Oltretutto c'è un'altra cosa molto interessante, cioè se io volessi in qualsiasi modo cercare di andare a vedere attraverso quale delle due fenditure sia passata la particella, io non ci riuscirei. Perché nel momento in cui dovessi capire che la particella è passata dalla fenditura, ad esempio numero 1, io vedrei sparire completamente la figura di interferenza. In qualsiasi modo io cerchi di capire attraverso quale delle due fenditure sia passata la particella, io vedo sparire la figura di interferenza. E questa è una cosa assolutamente strana e completamente controintuitiva. A questo punto, prima di fare delle deduzioni, che poi saranno quelle che utilizzeremo nelle prossime puntate di questa serie, cerchiamo di porci un'ultima domanda, cioè dove si trovava la particella prima di andare contro lo schermo? La prima risposta è la risposta cosiddetta realista, che è ad esempio quella che avrebbe fornito volentieri Albert Einstein. Allora, la risposta realista dice semplicemente che noi non possiamo dire dove si trovasse la particella prima di andare contro lo schermo e il motivo è che la meccanica quantistica è una teoria incompleta, cioè la particella effettivamente occupava una certa posizione nello spazio, tuttavia la meccanica quantistica, essendo una teoria che ancora non è in grado di spiegare tutto, non è in grado nemmeno di dirci dove si trovasse la particella. L'altra risposta è la cosiddetta risposta ortodossa, che effettivamente sarà quella maggiormente accettata e su cui effettivamente si basa la maggior parte dei test di meccanica quantistica. Questa è la risposta che porterà alla cosiddetta interpretazione di Copenhagen della meccanica quantistica, sostenuta ad esempio da Werner Heisenberg e da Niels Bohr, fisici che hanno lavorato proprio a Copenhagen. Quindi dal nome di tale città deriva poi il nome dell'interpretazione della meccanica quantistica. L'interpretazione di Copenhagen, secondo la quale la risposta corretta da dare, che abbiamo appunto chiamato risposta ortodossa, è che la particella prima di collidere contro lo schermo non occupava nessuna posizione precisa nello spazio, ma semplicemente la particella prima di andare contro lo schermo veniva descritta da una probabilità, cioè da una certa funzione matematica che rappresenta proprio la probabilità di trovare la particella da qualche parte nello spazio. Poi nel momento in cui la particella viene effettivamente misurata dallo schermo, cioè nel momento in cui la particella collide contro lo schermo e quindi lo schermo fa da cosiddetto strumento di misura della posizione della particella, a quel punto la probabilità di trovarla in quel determinato punto dello schermo dipende proprio da quella funzione di probabilità che abbiamo descritto prima e che effettivamente rappresentava la particella fino al momento prima. Quindi ripetiamo questa cosa perché effettivamente può creare confusione, è una cosa assolutamente nuova e pazzesca nell'ambito della fisica, soprattutto se pensiamo a come ragionavano gli scienziati a quell'epoca. Allora, secondo l'interpretazione standard della meccanica quantistica, quella che adesso utilizziamo per spiegare praticamente tutti i fenomeni quantistici che osserviamo, la particella prima di collidere contro lo schermo veniva descritta da una funzione di probabilità di trovare la particella nello spazio. Si tratta di una cosa assolutamente fuori dal nostro modo ordinario di pensare, cioè l'idea che ci siano delle cose che effettivamente non occupano una posizione specifica ma che vengono solo descritte da una probabilità è una cosa molto molto strana e difficile da accettare. Tuttavia spero che pian pianino, facendovi vedere poi quali siano tutte le varie conseguenze che noi possiamo sperimentalmente osservare e che utilizziamo di fatto nella vita di tutti i giorni, quando usiamo ad esempio molte tecnologie, si possa digerire questa cosa. Comunque tranquilli perché chiunque affronti queste cose anche a livello universitario all'inizio rimane molto molto spiazzato. Però in effetti la probabilità non è l'unica cosa che descrive la nostra particella, è corretto? Allora, una serie di studi, esperimenti e soprattutto una modalità di descrivere matematicamente il comportamento di queste particelle del microcosmo. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di qualche cosa che sostanzialmente non vediamo ma di cui misuriamo alcune proprietà. Il grande passaggio dalla meccanica classica alla meccanica quantistica è che andiamo a discutere qualche cosa che proprio non riusciamo a vedere nei dettagli. Se fossimo in grado di vederla nei dettagli non staremo qui a parlare di meccanica quantistica. Questo è un punto fondamentale da mettere alla base dei nostri ragionamenti. È un limite che non possiamo superare neanche col pensiero, non possiamo immaginarci di fare un esperimento pensabile per andare a vedere cosa c'è di più piccolo. È un fatto che la natura con i componenti che ha, i fotoni, le particelle, i neutrini, tutte le cose che abbiamo a disposizione, è limitata da una costante che è la costante H introdotta da Planck. Quindi noi non possiamo neanche immaginarci di fare una osservazione concepita con un esperimento che non facciamo ma su cui immaginiamo di andare a scale ancora più piccole o più precise. perché esiste una costante della fisica che introdotta nel formalismo quantistico ci impedisce di raggiungere precisioni maggiori da quelle che sono limitate dal famoso principio di indeterminazione che Heisenberg ha introdotto nel limitare la precisione con cui certe variabili, certe osservabili, possono essere contemporaneamente misurate. Ma su questo torniamo fra un istante. Quindi, per poter spiegare il comportamento della natura, tipicamente degli atomi, parola mercantica quantistica, si applica a tutto, ma è stato sviluppato guardando, cercando di capire come funzionano gli atomi. Si sono osservate delle caratteristiche specifiche di questi insiemi di materia gli atomi sono stati da un nucleo, dall'elettrone, dal campo elettrico che li lega che possono essere spiegate introducendo un comportamento ondulatorio della materia dove ciò che è ondulatorio non è proprio come un'onda di un liquido o di un solido particelle che oscillano rispetto a un valore medio, a un valore di riferimento. Ma quello che sta oscillando è una quantità che ha le caratteristiche di una probabilità. Ma c'è qualcosa di più? Una probabilità che in realtà viene associata a una caratteristica della particella in questione, immaginiamoci un elettrone piuttosto che un protone, a cui associo un'onda, ma questa onda è un'onda che è associata in uno spazio virtuale, uno spazio formato da numeri complessi. E questa onda, questa quantità, che è un numero complesso, che è una caratteristica che cambia nel tempo e nello spazio, rappresenta che cosa? Una quantità che, una volta che moltiplico in un punto specifico, questa funzione complessa per il suo complesso coniugato, è un'operazione matematica che corrisponde a quello di misurare la lunghezza di un vettore. Per cui se immagino che i numeri complessi sono in un sistema di coordinate con una coordinata reale e una coordinata complessa, e c'è un punto complesso nello spazio, questa operazione di prodotto della quantità vettoriale reale e complessa per il complesso coniugato, di fatto mi misura esattamente la quantità reale che corrisponde alla lunghezza del vettore che collega quel punto determinato nello spazio complesso con l'asse, col punto di origine. Bene, questo concetto lo posso applicare anche a una funzione complessa che in ogni punto ha una, chiamiamola così, lunghezza corrispondente al suo modulo quadro, ha un suo valore assoluto positivo corrispondente al suo modulo quadro. Bene, per arrivare alla probabilità, quindi devo prendere questa funzione d'onda, così si chiama, che ha una dipendenza complessa ed è definita punto punto nell'insieme delle coordinate, per esempio la sprapposizione di quest'onda nell'asse delle x. Dobbiamo punto punto moltiplicare il suo complesso coniugato e ottenere quindi una funzione che non è più una funzione complessa ma è una funzione reale che in ogni istante vale da zero ha un valore massimo, qualsiasi valore possibile e questa quantità ottenuta in questo modo ci sta spiegando quale è la probabilità che la particella in questione sia presente dopo una misura che ho effettuato in un certo punto. Facciamo una piccola ripetizione perché è un concetto abbastanza complesso anche se una volta che uno riesce a capirlo se ne innamora perché è semplicissimo. Allora, ripartiamo. Qual è l'ingrediente base? Descrivere il comportamento di una particella elementare invisibile con qualsiasi strumento osservabile in modo approssimativo. Non è possibile per il principio di indeterminazione, per esempio, osservare contemporaneamente dove sta la particella con precisione estrema e dove sta andando con la stessa precisione estrema. Se voglio sapere con precisione dov'è, perdo precisione nella quantità di moto, cioè nel prodotto della massa per la velocità. Se voglio sapere dove sta andando, perdo informazione di dov'è in quel punto. E niente di strano in questo, è perché le onde del mare, le onde acustiche, le onde elettriche hanno esattamente le stesse proprietà. Se io ho qualche cosa che si comporta come un'onda, esistono quantità coniugate che se conosco l'uno, non conosco l'altra e viceversa. Quindi torniamo a nostra particella. Io voglio descriverne le probabilità mentre lei si sta muovendo nello spazio. E quindi voglio, per esempio, definire con una certa precisione dov'è e con una certa precisione dove sta andando. La meccanica quantistica mi dice, benissimo, associamo a questa particella una quantità complessa, una funzione complessa, che dipende dallo spazio. Se questa particella sta andando da qui a questo muro, questa funzione avrà una certa struttura da qui a questo muro ed è una quantità complessa. Per capire cosa ne posso usare questa quantità complessa, la devo, in ogni singolo punto del suo percorso da qui a questo muro, prenderla e moltiplicarla in quel punto per se stessa complessa coniugata. Vuol dire che prendo la componente reale e la moltiplico tranquillamente. Ma la componente complessa gli cambio segno prima di moltiplicarla per l'altra parte del numero in questione. Bene, in quel punto ottengo, punto a punto, una funzione non più complessa, ma reale, che vale da un valore minimo di zero ha un valore massimo e che mi sta dicendo quanto è probabile che se io cerco di misurare quella particella in quel punto fra qui e il muro che quella particella la trovo lì. Nota bene quanto è probabile. Per esempio, se io sono sicuro che la particella sta fra qui e il muro, la somma delle probabilità che stia in ogni singolo punto deve dare esattamente uno, perché la particella da qualche parte deve stare. Ma questa somma di probabilità può essere segmentata nel numero infinito di piccole probabilità molto minore di uno che stia qui oppure qui oppure qui oppure qui. Bene, si parte quindi da una sorta di alone che definisce la particella nella sua struttura spaziale. Questo alone, che è un numero complesso, non è osservabile in quanto tale, perché i numeri complessi con uno strumento di misura reale non possono essere osservati, ma quando io faccio l'operazione di moltiplicazione per il complesso coniugato trasformo questo alone che è l'elemento profondo della fisica quantistica in una quantità reale che mi sta a raccontare, ripeto per l'ennesima volta, dove si sta trovando quella particella con quale probabilità la trovo qui, qui vicino al muro. Se questo meccanismo che a prima vista sembra un po' complicato, lo cominciamo a capire e ci rendiamo conto che è la base ultima e profonda della meccanica quantistica, molte cose improvvisamente diventano chiare e facili. Per esempio, uno, abbiamo detto che il fondamento vero del processo quantistico, della discrezione quantistica, è la funzione d'onda, questa quantità complessa che non posso misurare direttamente ma solamente come probabilità una volta che faccio la moltiplicazione del complesso coniugato. Ma è a questo livello che avvengono i fenomeni quantistici. È a questo livello che, per esempio, le particelle possono interagire l'una con l'altra, possono interferire l'una con l'altra, possono interferire con sé stesse a livello dell'ampiezza della funzione d'onda. Quando io devo fare una misura, la misura può essere una localizzazione, ma possono essere tante altre misure fatte con un campo elettrico, un campo magnetico, con un polarimetro, ci sono tanti modi per fare una misura su una particella quantistica, di questa complessa interazione che avviene a livello di funzione, di ampiezza, di funzione d'onda complessa, ne estrago solo il modulo quadro positivo che è una probabilità. quindi devo immaginarmi quando ho interazioni fra varie particelle, pensiamo per esempio un atomo formato da un nucleo e da tanti elettroni che gli stanno attorno. Queste particelle interagiscono in modo estremamente complesso, ma fino a che non vado a misurare le loro caratteristiche in un certo istante dato, cercando di fotografarle su dove sono entro i limiti che mi permette dei principi di determinazione, io finché non faccio questa osservazione, lascio il sistema delle funzioni d'onde complesse svilupparsi secondo le leggi della meccanica quantistica descritte sostanzialmente dall'equazione di Schrödinger. Quando vado a fare una misura, osservo se c'è un certo orbitale riempito da un elettrone, se l'atomo è citato o qualsiasi altra cosa che caratterizza un pezzo, un aspetto di un pezzo di questo atomo, vado a fare collassare, si chiama così il termine tecnico, la funzione d'onda quantistica complessa in una probabilità reale. Ed è da questo insieme di probabilità reale ottenuto facendo e rifacendo e rifacendo e rifacendo lo stesso esperimento un gran numero di volte che ricavo l'informazione complessiva su come può evolvere un particolare tipo di fenomeno che non dà sempre lo stesso risultato ma che dà se misurato parecchie volte un risultato complessivo che spiega come si sta comportando appunto il processo in funzione. Da un esempio specifico che è la classica fenditura in cui va a sbattere un elettrone per poi andare a incontrare un schermo posto dietro alla fenditura è l'esperimento di Young. Se io penso a un'onda di materia un'onda d'acqua e faccio l'esperimento di mandare un'onda piana a sbattere contro una parete che ha due fenditure e poi vado a vedere su uno schermo posto a una certa distanza che cosa accade dove sono i massimi dove sono i minimi vedo chiaramente con i miei occhi che l'onda piana arriva sbatte contro la barriera nei due punti corrispondenti alla fenditura questa onda si ripropone diventando due onde puntiformi che partono dall'una e dall'altra fenditura le quali si propagano in modo semicircolare interferiscono l'una con l'altra e quando saremo arrivati al schermo in alcuni punti avrò delle onde che sono alte rispetto al valore medio ecco quindi dei massimi sistematici in altri punti avrò dei minimi sistematici e in punti intermedi avrò delle oscillazioni a media zero bene pensiamo adesso di fare lo stesso esperimento con un elettrone l'elettrone sappiamo secondo i dettami delle meccaniche garantistiche che è associabile a un'onda di probabilità nel senso a un'ampiezza complessa che definisce le caratteristiche dell'elettrone e lo accompagna ed iscrive il suo comportamento anche nello spazio ma che quando la osservo mi dà un numero reale che è il modulo quadro che è associabile alla probabilità che l'elettrone sia veramente lì benissimo quindi devo immaginarmi questa funzione d'onda quantistica complessa che oscilla come stesse oscillando un'onda d'acqua che arriva alla fessura a doppia fessura che viene fermata e scompare dove c'è il muro l'ostacolo che ricomincia a oscillare si propone come un'onda due onde circolari sempre di funzione complessa di ampiezza complessa che continuano a svilupparsi interferendo e facendo una struttura complessa e quando arrivano alla parete che è lo schermo dove queste onde sistematicamente si stanno sommando a un valore più alto la probabilità che l'elettrone si materializza in quel punto e quindi il prodotto della funzione per il suo compresso coniugato è più grande positiva dove sistematicamente avrò un minimo questa funzione probabilmente andrà a zero perché c'è un'interferenza che cancella i due contributi della funzione d'onda e in posti intermedi questa funzione d'onda avrà valore medio a zero alla fine avrò sullo schermo che posso immaginarmi uno schermo luminescente come sono quelli che riescono a individuare i singoli elettroni come un luogo in cui punto per punto la probabilità che l'elettrone appaia sullo schermo e lascia una traccia in quel punto va come il modulo quadro della funzione d'onda in quella posizione ogni elettrone però compare o qui o qui o qui ma quando ne mando una grandissima quantità ricreo le stesse bande di intensità come le ho fatte mandando un'onda acustica o un'onda liquida con le stesse caratteristiche dell'elettrone ma mentre nel caso dell'onda acustica o dell'onda liquida vedo il processo istante per istante quindi è evidente che si formano le bande di massima intensità o minima intensità sullo schermo nel caso dell'elettrone il processo avviene a un livello di non osservabilità l'onda di ampiezza di probabilità fa le stesse cose che fa l'onda dell'acqua o l'onda sonora ma io non posso andare a disturbarla guardandola perché in quel caso andrei a localizzare l'elettrone in un punto specifico perché la misura fa proprio questa operazione che è descritta dalla moltiplicazione della funzione d'onda in quel punto complessa per il suon coniugato diventa una probabilità e se con quella probabilità mi capita di osservare l'elettrone in quel punto l'osservo e il gioco finisce se invece lascio procedere quest'onda di ampiezza di probabilità complessa attraverso le due fessure fino che arriva allo schermo dove viene oggettivamente misurato l'elettrone in ogni evento mi andrà a essere localizzato in un punto diverso ma complessivamente c'è un chiedi magico in questo si andranno a localizzare molti più elettroni nelle zone in cui mi aspetto le bande molti meno elettroni forse nessuno nelle zone in cui mi aspetto un minimo di ampiezza e quindi probabilità e questo passaggio che non è sempre facile da intuire perché la meccanica quantistica è profondamente ondulatoria in un livello di realtà che non è osservabile per esempio se io mi metto vicino a una delle due fessure e ci metto una piccola telecamera un piccolo sensore anche un debole sistema per toccare leggermente l'elettrone misurando il suo passaggio un sensore di carica quello che volete scompare l'interferenza quando faccio tantissimi eventi scompare l'interferenza sullo schermo perché ho disturbato il processo di diffusione legato alla funzione d'onda complessa e l'ho di fatto fatto collassare o su una fessura o sull'altra e scompare improvvisamente con un semplice sensore anche molto tenue posto sull'una sull'altra l'interferenza dell'onda quantistica con la doppia fenditura di Yang sparisce quindi io devo assolutamente rendermi conto che il comportamento quantistico è a un livello di inconoscibilità nel suo divenire diventa conosciuto e in modo parziale solo quando io faccio una misura in cui materializzo la particella in questione dico in modo parziale perché siccome ho a che fare con probabilità molte volte il mio tentativo di migliorare in un certo punto quell'elettrone fallirà perché lui compare solo da un'altra parte ma se faccio il processo per migliaia e migliaia di elettroni questo fenomeno mi riproduce perfettamente l'indicazione che a livello sottostante inosservabile virtuale sta accadendo proprio quello di cui vi parlavo prima cioè che c'è questa struttura di una funzione complessa che accompagna il comportamento dell'elettrone si comporta in modo rigoroso secondo ciò che predice l'equazione di Schrodinger che è un'equazione differenziale applicata a delle onde matematiche quindi si comporta in modo strapreciso ma a un livello che è inconoscibile che è inosservabile da parte dell'osservatore esterno se non quando va a disturbarlo ma in tal caso ripeto il gioco finisce lo localizza in un punto o nell'altro e non c'è più la possibilità per quel processo di comportarsi in modo quantistico dalla puntata di oggi possiamo portarci a casa alcuni concetti chiave assolutamente importantissimi per capire poi ciò di cui parleremo nelle prossime puntate innanzitutto un sistema quantistico come ad esempio una particella non si può più vedere come una pallina che occupa una posizione ben precisa nello spazio tridimensionale ma si può vedere semplicemente mentre evolve come una funzione d'onda che si trova in uno spazio matematico naturalmente questa funzione d'onda contiene tantissime informazioni sul nostro sistema quantistico però non si tratta di un'onda un'onda nel senso comune del termine cioè non si tratta di un'onda che si propaga qui nel nostro mondo io ringrazio tantissimo il professor Roberto Battiston per aver collaborato con questo video e per averci spiegato tutti quei concetti complessi in modo così chiaro come solo lui sa fare il professore comunque sarà con noi anche nella prossima puntata che uscirà fra una settimana in quella puntata andremo un po' avanti sempre sulla linea che abbiamo tracciato oggi però parleremo di alcuni concetti un pochino più complessi parleremo infatti in modo abbastanza approfondito del principio di indeterminazione di Heisenberg e lo esprimeremo in altri modi equivalenti dai quali dedurremo che effettivamente ci sono altre grandezze fisiche importanti che descrivono i nostri sistemi quantistici arriveremo infine a parlare di questioni un pochino più tecniche come ad esempio quella degli operatori che agiscono su queste funzioni d'onda ma per tutto questo vi rimando appunto alla prossima puntata che uscirà fra una settimana esatta quindi sempre il mercoledì alle 18.30 per adesso vi saluto vi ringrazio tantissimo per aver guardato vi ricordo come al solito che se volete potete seguirmi anche su Instagram dato che lì ci sono quotidianamente novità storie dirette e via dicendo e noi ci vediamo a un prossimo video ciao 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 ciao